Cosa vi ha insegnato questa esperienza e se avete superato qualche paura? Tante paure abbiamo superato! Questa esperienza porteremo nel cuore ormai per tutta la vita. Soprattutto io ero una persona molto timida e questa esperienza mi ha anche insegnato a buttarmi, a essere anche più coraggiosa, a provare, a parlare, cercare. Quindi questa è sicuramente una cosa che mi ha insegnato e che mi ha cambiata. Questa esperienza mi ha fatto conoscere mia figlia da un altro lato, una persona molto forte, determinata, una coraggiosa, una che non molla mai e questo mi ha sorpreso molto, molto piacevolmente, diciamo. Insomma, io adesso capisco che lei è pronta a gestire la sua vita senza noi, senza mamma e papà, ormai può fare qualsiasi cosa. Ciao! Può partire per la sua strada. Esatto, esatto. Mentre per quanto riguarda le paure, avete superato una paura nello specifico. Ma la paura mia era sempre verso di lei. Insomma, io adesso non ho più paura, io sono più tranquilla, dormo bene anche se lei magari sta in un'altra città, fa la sua vita. Ci sentiamo anche meno adesso, perché non ho più questa ansia, perché lo so che se la cagherà.